Nessun lembo del territorio italiano deve restare incoltivato. Ecco la consegna di guerra. E in ogni parte d'Italia giardini e parchi si sono trasformati in orchi e campi. Le messi mature biondeggiano nel campo di golf del Lugolino, a Grassina. I soci hanno voluto che fossero utilizzate tutte le zone del campo adatto a cultura. Anche gli olivi del campo sono razionalmente coltivati. E il raccolto fornirà 30 quintali d'olio, mentre la produzione del grano sarà di oltre 100 quintali. I mietitori sono già al lavoro. Il raccolto il nostro corso gratuito è un valore.